L'ultimo grido d'allarme arriva da Moliterno, dove la palestra dell'Istituto Petruccelli Parisi, l'ex Ipsia, è chiusa da due anni in attesa di adeguamento. L'amministrazione comunale protesta. La provincia annuncia di aver già predisposto il finanziamento per i lavori. È una partita già vista, verrebbe da dire, dato che parliamo di sport, e la nostra regione in questa speciale classifica indossa addirittura la maglia nera. A scuola, circa otto studenti lucani su dieci devono fare a meno di impianti sportivi. Il dato sembra essere messo in relazione con la sedentarietà della popolazione, che in Italia è in aumento, in particolare nel mezzogiorno supera più della metà della popolazione, che non svolge alcun tipo di attività sportiva e attività fisica. In Basilicata parliamo del 53% della popolazione. I rischi per la salute sono insomma di tutta evidenza, come testimoniano i dati contenuti nella ricerca sull'offerta dell'impiantistica sportiva nelle regioni condotta da Svimez e Wisp con la collaborazione di Sport e Salute, l'ex con i servizi. Nell'indagine un gap annunciato, quello tra sud e centro-nord Italia. La Basilicata, come detto, è ultima della classe per strutture sportive a scuola, ma in generale solo il 26% degli impianti si trova al mezzogiorno e comunque il 60% di tutti risale almeno agli anni 80. Uno su cinque non è fruibile da persone con disabilità. Servono investimenti e anche lungimiranza per quanto riguarda la pianificazione delle attività negli immobili sportivi pubblici per il 63% affidati a privati. La gestione deve essere accompagnata con contratti più lunghi e garantendo sia la sostenibilità economica nel medio periodo sia anche la possibilità di far accedere chi non se lo può permettere estendendo il diritto allo sport a tutti i giovani del mezzogiorno. Una fotografia, quella offerta dalla ricerca, che è la prima realizzata dopo la pandemia. Altro fattore di difficoltà, il rincaro dei costi energetici che ha aggravato la già esistente fragilità strutturale a tutto svantaggio del nostro sud.